Buongiorno a tutti intanto Buongiorno Dovete aiutarmi perché sono due giornate quindi facciamo in modo che sia non mi piacciono le lezioni frontali mi piace che sia un'interazione io sono un chiacchierone però 16 ore sono una bella sfida anche per me quindi chiacchierate anche voi interrompetemi, fate domande tutto quello che volete ok, tanto tempo ne abbiamo e beh, cominciamo dalle basi cominciamo col conoscerci un attimino perché io ho provato anche a mandare una mail capire un po' quali erano le vostre esigenze ma forse anche perché era difficile prevederlo no, non ho ottenuto risposta insomma quindi se volete mi presento prima io mi presento alla fine ditemi come vi chiamate cosa avete fatto perché siete qui quindi cosa vi aspettate e anche cosa vi piace fare che è la cosa più importante le vostre passioni al di là del lavoro e del resto chi vuole partire? o parto io? dai allora vabbè io mi chiamo Riccardo ho 30 anni vengo da Vicenza cuore del Veneto industrioso e operoso cosa faccio nella vita? ma cerco di divertirmi cerco sempre di dire così in realtà è un curriculum che se lo vedesse qualche esperto di risorse umane e cose del genere si metterebbe le mani nei capelli perché ho fatto tantissime cose soprattutto nell'ambito cioè anzi solo nell'ambito della comunicazione alla fine però ho finito l'università in scienze della comunicazione famosissima scienza della comunicazione dopo che ho fatto due master di cui uno in giornalismo per diventare giornalista professionista perché è quello che volevo fare e che in parte voglio ancora fare prima di finire il master in giornalismo ho stato assunto in un'azienda che faceva consulenza per le farmaceutiche principalmente ma di comunicazione e lì facevo un po' il jolly dal project manager alla produzione di video agli effetti un po' tutto insomma con un contratto d'apprendista e dopo due anni visto che questa cosa visto che questa cosa non mi permetteva di tenere il patentino da giornalista perché per essere giornalista professionista devi lavorare come giornalista e gli avevo chiesto di passare a tempo diciamo a tempo part time o così per mettere insieme le due cose ma mi hanno detto di no e quindi me ne sono uscito quindi ho rinunciato comunque a un contratto che era a tempo indeterminato teoricamente perché proprio sei mesi dopo mi scattava e cominciavo proprio a star lì fisso e quindi ovviamente tutti quanti la mamma che dice che cazzo fai no no invece mi hanno abbastanza supportato e da lì prima ho fatto l'autore televisivo dopodiché purtroppo per ragioni indipendenti alla nostra volontà l'esperienza è finita perché non ci pagavano e siamo andati in causa buongiorno e da lì quindi da due anni e mezzo ho proprio cominciato a lavorare proprio da solo e ho fatto faccio consulenza faccio video faccio ho due adesso da un anno e mezzo ho tre start up di cui una pubblica di che job club forse me ne ha parlato un po' Nicola insieme a Nicola e le altre due ancora che stanno crescendo e sono tornato a fare un documentario di inchiesta quest'anno ci ho messo tanto tempo però una cosa che mi piaceva fare l'ho fatta e l'ho finito il mese scorso e poi insomma un po' di varie cose sempre nell'ambito della comunicazione e quindi tanta consulenza comunque ho partito a IVA e poi un anno e mezzo fa mi avevano chiesto di intervenire a un a una a un diciamo a un convegno a una serie di lezioni sulle arti visive mi hanno detto vieni a parlare di storytelling cioè di come si scrive una storia e ho detto va bene e mi è piaciuto e allora ho cominciato a fare anche quello e ho cominciato a fare un po' di lezioni qua e là e adesso direi che è quasi la cosa che faccio di più più o meno fare lezioni su vari aspetti della comunicazione e comunque tanto anche sulla ricerca del lavoro perché poi è il filone che ci ha dato un po' più di fortuna anche insieme come la job club adesso ho cominciato a collaborare con questa azienda che si chiama HR Community Academy che è a Roma HR sta per Human Resources quindi risorse umane e loro praticamente sono un'associazione che unisce tutte quante le più grosse responsabili di risorse umane d'Italia quindi comunque aziende enormi Cisco Nestlé Generali Pirelli tutte queste cose qua e loro hanno avuto una bella idea hanno detto perché a queste aziende invece di regalare sapete che le grosse aziende danno un bonus o un regalo di solito ai dipendenti ma invece che dargli il biglietto per andare allo stadio di cose del genere perché non regalate ai figli dei dipendenti una giornata di formazione e questa cosa ha avuto enorme successo tanto più che adesso da inizio fine settembre a Natale abbiamo 25 incontri e in ognuno di questi io intervengo per raccontare la mia versione un po' talebana di come si cerca lavoro che vedrete molto diversa da quello che sono quasi certo vi aspettate questo è quanto invece le cose che mi piacciono fare al di là del lavoro che comunque mi piace canto studio canto da tanto tempo andare in montagna quando posso mi piacerebbe viaggiare se avessi tempo e soldi quel poco l'ho fatto quel poco tempo che ho avuto perché anche l'università l'ho voluta fare in fretta vabbè ho cercato di viaggiare e tanto volontariato ho anche un progetto in Caritas perché sono volontario Caritas da tanto tempo che si chiama Ripartire che è partito proprio a giugno e che mira ad attivare dei tirocini per persone che escono dal disagio della Caritas insomma quindi può essere ex tossicodipendenti oppure possono essere persone con disagio psichico o fisico o appunto che escono da problemi economici forti insomma e questa è l'altra mia attività che dovrebbe occuparmi tre giorni a settimana però ultimamente devo sempre farlo sempre più spesso a distanza questo più o meno è quanto la parola a voi se volete essere anche un po' più concisi di me ma è giusto che magari mettessi qualche informazione in più visto che sarò quello che sparlerà più spesso vai parti tu e questa è la tua professione un'altra professione che devo comunque fare mi sono lavorata con una canzone politica e diciamo che dal lavoro di te si è venuto fuori cioè si è scattelato per me un un grande interesse per il mondo del lavoro anche se è una cosa che in realtà colpivavo in fece a lei perché comunque a me è sempre piaciuto stare a contatto con le persone quindi ho fatto piuttosto di collaborazione che voglia di studiare per i miei oppure persone in capo o qualcosa di qui dopodiché sono alla ricerca di un lavoro però nello stesso tempo in questo periodo mi sono dedicata appunto alla formazione infatti ho già fatto dei corsi di formazione a Roma insomma ma quindi li hai tenuti tu? li hai tenuti o li hai li hai seguiti? sono andata perché infatti ho fatto public speaking e 75 tutto in inglese è più importante si chiama public speaking e non li chiami parlare in pubblico sembra poi che ci fanno solamente i pezzenti scusami faccio faccio un'interiato da circa un annetto lo stesso infatti faccio delle lezioni invece sono come docente presso l'università della terza capo nel mio paese quest'anno invece sono stata convocata anche presso un altro paese tra i vetturi sempre nella provincia di Bari e quindi mi piacciono diciamo sono più dedita alle materie sociali perché mi piace interagire con le persone quindi ascoltarle diciamo quasi mi medesimo le loro problematiche e comunque l'altro lato è mi piace studiare e leggere tanto quindi oggi abbiamo diciamo una protezione una funzione investigativa anche trattare i dati con le statistiche che venire fuori cioè tirar fuori quelli che sono potrebbero essere delle problematiche e magari trovare delle piccole soluzioni ok tutto quello niente quindi continuo questo mio lavoro infatti continuo a leggere continuo a documentarmi a tirare fuori quello che si può fare ok e nel tempo sto cercando insomma di inserirmi nel modo lavorativo cercare quale potrebbe essere la via migliore anche se ora a distanza di un anno già dal mio percorso ho già individuato quale potrebbe essere e sarebbe una parola potrebbe essere il settore sociale quindi magari inserirmi il genere oppure potrebbe essere anche un altro settore quale pratica legale e cosa ti aspetti da questi due giorni perché sei venuta qua beh mi aspetto di arricchire il mio bagaglio culturale quanto riguarda la ricerca del lavoro già finora quindi tecniche per cercare lavoro è la cosa che ti interessa di più ma sì oltre alla tecnica anche diciamo cercare noi stessi quello che effettivamente possiamo tirare fuori perché magari ci possono essere dei lati delle cose nascoste che magari noi finora ignoravamo e quindi non riuscivamo a tenermi conto mentre ora diciamo infatti dall'inizio che abbiamo iniziato questo percorso ad ora già sono spuntate tante altre cose che prima non avevo ok segnati le lettere SI vai tu allora io sono Monica sono una psicologa del lavoro sono qui per riorientarmi dico subito qual è il mio obiettivo sono quindi sul mercato sto cercando di definirmi professionalmente di capire come reinserirmi in un contesto lavorativo locale e non perché sto anche bagliando possibilità più ampie la mia ultima inserita in realtà erano due una intenzionalmente interrotta l'altra invece per cadenza contratto mi sono resa conto quindi che restare eccessivamente acconcorata in una realtà lavorativa poi si isola parezza da quello che è il mercato e quindi diciamo un po' la ripresa diventa faticosa di prendere un pochino coscienza di quello che ti circonda cosa mi piace fare mi piace praticare sport mi piace viaggiare anch'io se ne sia la possibilità lo farei molto più spesso fondamentalmente perché mi piace il confronto con quelle che sono altre realtà mi piace mettermi nella prospettiva dell'altro capire perché mi piace fare una determinata cosa infatti cosa mi piace in assoluto fare è stare con la gente aiutarle a crescere a migliorare a vivere meglio quindi un aspetto che mi è particolarmente a cuore è la qualità della vita il fatto di poter vivere bene ma non avendo anche tanto anche col fuoco a saper apprezzare quello che sia diciamo la chiave di lettura di tutto che cerco anche di applicare comunque nella mia vita è questo bene e cosa ti aspetti dal corso mi aspetto di uscirne comunque arricchita di uscirne intanto sì l'amore e altro no siamo sopravvissuti ai tre giorni comunque tu pensi che sarà meglio no forse sarà meglio siamo in sabato lì però quindi avremo il mondo di recuperare perché comunque in sabato vorremmo dire lì più male diciamo è stata messa ad una prova alla forza di volontà però è tutto bello perché comunque è stato creare un affiatamento con il gruppo comunque è piacevole infatti l'affetto umano è quello che gratifica a me o per me in assoluto ma il comune mezzo gaoli quindi diciamo che siamo qui dobbiamo sopravvivere ok e le passioni al di là del lavoro sport sì eh sì ho detto lo devo dire in inglese group stacking zone dreaming ah ok però c'è il nostro istruttore che ci pazza ogni volta se diciamo spinning no dobbiamo dire group cycling perché ah group cycling è un brand pedalare sì la pedalata di gruppo e poi c'è la camminata di gruppo tra l'altro io convivo con una ragazza inglese quindi ecco sono come gli ex fumatori no devo usarlo tutti i giorni mi divento un po' intollerante quando entro dappertutto scusami e anche comunque leggere ok id segnati imola domodosco va bene danila tedesco psicologa del lavoro consulente del freelance non dirò che sono romana perché come ammazzo allora non sono romana sono diciamo a bari da sette anni quindi sono nella fase di conoscere e approfondire il mercato diciamo a rete non solo pugliese nel quale sono cercando di inserirmi perché sono qui perché mi interessa in maniera particolare il discorso del personal branding e anche del self employment per me stessa ed eventualmente come argomento da proporre ai clienti già sto seguendo sia delle persone che delle aziende che potrebbero essere interessate a questo argomento ad affinare e quindi poi come dire attivare questa tecnica per loro stessi per loro sviluppo quindi la vostra idea comunque come psicologi di lavoro è di assorbire qualcosa e poi diffonderlo chiaramente speriamo diffonderlo primariamente perché essendo consulenti era almeno per me l'obiettivo primario è quello di diffonderlo verso terzi ma poi anche le fanno le fanno tesoro insomma per se stessi insomma in questo in questo campo mi sono resa conto non si finisce mai di farare in tutti i campi sì però in questo specifico perché non è una scienza dura come si dice quindi è una scienza di sfidamento per dire in continuo movimento in continuo dinamismo e quindi l'idea è proprio questa essere qui per questa duplice finalità e le mie passioni continuano a interrogarmi per quali possono essere perché effettivamente variano col tempo e con le fasi di vita attualmente ho scoperto di apprezzare particolarmente le passeggiate in montagna le sane passeggiate in montagna pur vivendo al mare pur vivendo al mare in realtà per metà sono austriaca per cui ho ripreso le origini austriache e quindi io ti invidio per il mare e tu mi invidi per le dolomiti bravo bravo perché l'erba del vicino è sempre più verde esatto le ho passate lì per cui nostalgicamente ritorno cioè se è stato ho avuto l'opportunità di ritornare dopo parecchi anni e devo dire anche facendolo scoprire a mio figlio essendo mamma l'ho riutilizzata io come ricordo e poi come pratica per cui il discorso proprio della passeggiata lenta in montagna mi ha di nuovo riappassionato proprio come stile di vita dimensione per riapplicarsi anche del contatto con la natura e di una dimensione del tempo un po' più rallentata questo acquisita come stile di vita va bene si mi ha detto tutto IS per te no IS per te ma voi sapete cosa sto facendo visto che i psicologhi del lavoro vabbè poi lo scoprirete tu si vero ok ci ho zecchato più o meno con te ci ho zecchato con te più o meno ci ho zecchato con te più o meno ok vai io aspetto le lettere nel frattempo sono Ezia e sono laureata in psicologia del lavoro anch'io da un anno circa ora sono in fase di abilitazione infatti tra qualche settimana salgo su in veneto proprio per abilitarmi ok quindi concludo là il percorso e sono qua perché ovviamente penso di voglio dire che qualsiasi esperienza possa portare a me qualcosa naturalmente sono in fase io non sono in fase di definizione sono in fase di definizione appunto perché non sono immersa ancora nel mercato del lavoro appunto perché ho finito il tirocinio che abbiamo post laurea per la benedetta abilitazione e quindi ecco sto cercando di capire quale è l'ambito nel quale devo spingermi e rendendomi sempre più attiva appunto nella ricerca del lavoro perché poi secondo me la chiave di tutto è proprio questa attività che spesso a noi giovani manca e sono il mio sogno è quello di diventare un gestore delle risorse umane in una grande azienda che magari a Bari prima o poi nascerà non lo so comunque voglio dire sono tornata sono tornata proprio perché voglio ecco rendermi soggetto attivo qua al sud e quindi spero appunto di diventare ecco questo gestore delle risorse umane e tra un mese inizio anche un master che tra un anno appunto mi porterà a avere questo titolo ok le mie passioni sono vabbè ballo danze latinoamericane standard e poi diciamo che cerco di essere parte integrante della mia città che è Barletta è un'oretta di qua come assisto psicologicamente insieme ad una psicoterapeuta le persone che sono in lista d'attesa le famose liste d'attesa chilometriche che spesso vengono lasciate così cioè spesso sempre vengono lasciate così in valia delle onde ad aspettare mesi e mesi e quindi quello che faccio appunto è di renderli diciamo consapevoli di quello che sarà poi l'iter grazie ad una formazione che ho avuto a Pisa vengo qua a Barletta a cercare appunto di renderli consapevoli di quello che sarà l'iter poi del trapianto perché spesso si avvicinano al trapianto senza sapere cosa è realmente e ti piace farlo sì molto e poi comunque cerco anche di sono inserita in diverse associazioni proprio a livello locale e cerco appunto di essere vicino a quelli che sono i problemi più impellenti da diciamo attraverso l'amministrazione comunale da risolvere da rendere almeno più emergenti in modo tale che siano nell'occhio del ciclone questo è quello che faccio per oggi fino ad oggi ok e cosa ti interessa di più ti interesserebbe di più portarti a casa da questi due giorni? è proprio il termine attivo che a me interessa tanto ok cioè le azioni da fare per per aiutarsi aiutarsi a trovare lavoro aiutarmi sì ok vabbè passioni più o meno me le hai dette non so se ce ne sono di collaterali no per ora sono queste qua ok di anche per te domadosso la Imola tocca a te ciao sono Daniela anch'io sono laureata in psicologia del lavoro ma che cazzo la curva eh niente sono ritornata anch'io nel sud Italia dopo vari spostamenti in giro per l'Italia in Inghilterra sei di qua? sì eh niente anche voglio provarci qui e inserirmi in questo contesto siete come salmoni tornate a casa sì è il mare eh sì come se no in realtà mi sembra anche un peccato no non è detto che resti qui però mi sembra proprio un peccato cioè mi sono resa conto di quanto è l'Italia poi alla fine ci sia bisogno certo anche cioè ci sia bisogno di voi per se tutti se ne vanno quindi lodevole e quindi niente sono anche in fase di esplorazione cioè diciamo è questo mi è piaciuto molto il corso di Nicola mi sta piacendo questo corso questi due giorni non so perché per me c'è l'argomento un po' noioso però cerco di però vedrai che non sarà così ecco ecco l'unico rischio che mi sento di più o meno tranquillizzarvi che non sarà noioso poi vedrete voi se vi servirà o meno ma penso che sì di sicuro vi servirà quindi queste sono venute all'ospedale stavo cercando di agganciarlo alla cintura ma vabbè non importa tengo in tasca nessun problema e altre passioni ma diciamo che le sto riscoprendo adesso comunque si leggere scrivere anche ok volevo iniziare a fare anche qualche attività più creativa piccolare non lo so scoprire un po' di roba ok quindi non sai bene cosa aspettarti a questi due giorni qua sei venuta un po' hai fatto un balzo nel buio no vabbè di sicuro comunque questo laboratorio mi sembra molto interessante quindi imparerò nuove cose ok sc sc no mi chiamo Nico da 5 anni Nico Nico o Nicola no no Nicola non è un divinutivo mio donno si chiamava Nicola c'erano già troppi cugini Nicola mi hanno pensato di chiamarmi Nico come a Napoli che la gente le famiglie incrociano le dita perché il bambino nasca vicino a Natale per poterlo chiamare Natalino ogni volta devo mostrare il documento su sta storia c'è di peggio nella vita da dove parto in 30 secondi l'elemento che mi caratterizza è l'impegno sociale l'impegno attivo dalle scuole superiori sono partiti rappresentanti di classe rappresentanti di istituto poi all'università politica l'associazione studentesca insomma alla fine adesso sono dirigente sindacale oddio lo sono da 12 anni dopo vari lavori di vario tipo tra cui anche l'operatore dell'informa giovane alcuni di vari sono entrato nell'organizzazione sindacale prima come rappresentante sindacale di lavoratore di quel posto di lavoro poi con distacco sindacale e niente insomma mi sono occupato di varie cose nel corso degli anni l'impegno maggiore che mi ha occupato quasi sette anni è stato nei confronti ai lavoratori cosiddetti atipici quindi collaboratori a progetti partite IVA e quant'altro sono stato coordinatore regionale di questo settore per conto della CGL e quindi mi sono occupato di trattative con aziende piccole piuttosto che multinazionali piuttosto che diciamo di relazioni sindacali con le istituzioni regione provincia e quindi sono un appassionato di tematiche del lavoro mercato del lavoro e questioni di questo tipo tant'è vero che non appena abbiamo visto il bando della regione Puglia per realizzare i laboratori dal basso mi sono attivato subito per creare un network una rete con soggetti che avevo già nel corso degli anni incrociato tra i quali FUA Nadia è stata una nostra tirocinante al suo tempo di CGL che ho seguito io qualche anno fa un'associazione del comune presso il quale dove abito Sant'Erami in Colle un'associazione che si è occupata negli anni passati di orientamento al lavoro dalla quale sono anche vicepresidente insomma ho attivato il network per mettere in kid questo ah quindi sei tu il creatore di questo è colpa tua se siamo qua poi diciamo io ho dato l'input poi mi sono frenato e gli altri mi sono andati avanti perché insomma c'erano ma è che poi la cosa che mi caratterizza maggiormente sono un animatore fondamentalmente quindi quando guardate fuori vedete il sole e pensate di essere incastrati qua non prendetevela con me ma prendetevela con me e poi insomma è stato già divertente e interessante cimentarsi con l'ideazione la realizzazione il confronto con l'istituzione per mettere in piedi il tutto diciamo ho dovuto mettere in atto tecniche di contrattazione anche di confronto dell'ente per poter far sì che è il corso Partis insomma che cosa mi aspetta dal laboratorio complessivamente prima di tutto il confronto difatti era uno degli elementi principali scritti proprio nel progetto e questo lo stiamo facendo quindi fatto e poi il confronto anche all'interno dei vari seminari con i vari approcci quindi siamo partiti da un approccio istituzionale la dirigente dell'ISFOL e l'università di Bari per cui arrivare a Giaconi che ha un'impostazione ritenuta da morte eretica diciamo io sono peggio e poi appunto confrontarsi con te e con quei modelli quei esteri ok ma delle informazioni che magari ti porterai a casa cosa pensi di farne più o meno pensi di utilizzarle solo per te stesso lo sto già mettendo in atto diciamo ok come dire io sono abituato poi a saccheggiare qualsiasi cosa sento la prendo e la ripabolo e difatti già ieri in un seminario interno nostro dove ci siamo confrontati sulle azioni della regione pubblica sul mercato del lavoro ho utilizzato a piene mani tutto quello che ho sentito e tutto quello che insomma si è detto ma in CGL adesso ci lavori a tempo pieno praticamente o è ancora io ci lavoro a tempo pieno dal 2002 ok e quindi sono stato per 4 anni il cosiddetto operatore di patronato quindi quello che si occupava dei rapporti con l'incellina dall'infortunio alla maternità 11 anni comunque c'è per 4 anni lì 4-5 anni lì poi 6 anni e mezzo gli atipici e da 9 mesi seguo l'edilizia seguo il settore edile che per me è un po' ritorno alla storia familiare perché mio padre era idraulico quindi voglio dire quando me l'hanno proposto sono cercato di scappare dall'edilizia poi alla fine in qualche maniera sono tornato scusa ho fatto una risata perché il documentario d'inchiesta che ho fatto sul mercato immobiliare quindi tante risate e altre passioni? altre passioni la passione mi porto da più o meno da sempre il cinema di fatti c'era una serie di laboratori dal basso che si occupavano di cortometraggia airzog e quant'altro però voglio dire la giornata dovrebbe essere un po' più lunga ok di anche per te domodossola imola andiamo ho 57 anni sono occupata per oltre 30 anni di formazione professionale specificatamente alla gestione delle attività formative da pochissimo tempo sono al centro per l'impiego di Barletta quindi quotidianamente alle prese con persone che sono alla ricerca disperata di un lavoro arriva di tutto e di più dai giovani agli ultra sessantenni quindi sono qui per questo motivo mi aspetto delle maggiori conoscenze oltre per un arricchimento a livello personale anche conoscenze da trasmettere a tutte le persone con cui quotidianamente mi relaziono per aiutare tempo a disposizione molto poco comunque posso dire che le mie passioni prevalenti sono la lettura e lo scrivere penso di scrivere cose che nessuno leggerà mai però continuo a scriverle e mi piace soprattutto scrivere favole per bambini bello ecco ripeto sono cose che rimangono lì nel cassetto però però non ci hai provato tra l'altro voglio dire non è un mercato così inflazionato come magari scrivere romanzi o racconti per adulti e cose del genere c'è mai provato a proporli a qualcuno a farli vedere no ok cosa ti aspetti più nel concreto proprio di questi due giorni qua ecco maggior vabbè oltre al confronto con persone con quest'aula insomma che è composta da persone così molto molto gradevoli con cui mi sono trovata benissimo anche nelle volte passate mi aspetto ecco conoscenze ancora di tipo più tecnico da trasferire ok sc va bene grazie io sono giuseppe aspetta ringrazierami ciao giuseppe ho 26 anni mi sono laureato nel 2011 in giurisprudenza poi ho fatto un anno di pratica forense presso uno studio legale qui a Bari poi ho deciso di interlompere e di iscrivermi ad un master in risorse umane sempre a Bari a marzo devo trovare un modo per infilarvi in uno dei talent days voi due perché è pieno di responsabili e risorse umane e si può tacchinare con i curriculum e il resto quindi vedo se sarà possibile magari l'anno prossimo a marzo è finito il master ho fatto 6 mesi di stagio presso una società per azioni qui a Bari che si occupa di servizi su tutto il territorio nazionale nella direzione del personale dove mi sono occupato principalmente di relazioni sindacali contenzioso del lavoro ricerche giuridiche assunzioni e licenziamenti l'11 ottobre è finito questo stagio e dal 12 ottobre sono alla ricerca attiva del lavoro e quindi per qui mi aspetto un orientamento nel mercato del lavoro cosa non ti era piaciuto della pratica legale? no io sin dall'inizio non volevo fare l'avvocato volevo entrare in azienda però volevo mettere in pratica quelli che erano stati i miei studi di laurea infatti mi è servito molto dopo anche in azienda in questi 6 mesi le nozioni che ho appreso durante la pratica legale nel contenuto del lavoro mi sono state molto utili ok e altre passioni? cinema mi piace molto viaggiare e leggere ok quindi comunque da qua la cosa che ti piacerebbe più portare a casa sono un po' di tecniche anche per cercare e trovare lavoro sì lo sto per te è difficile S sicuramente è un po' C un po' D però direi più scriviti S C D più o meno ok allora mi chiamo Radinia ho 48 anni sono un'insegnante da te di 20 anni mi insegno letter nella mia scuola faccio un po' di tutto mi occupo di tantissime attività anche quest'anno ho cominciato anche per i progetti europei perché sono questa vocazione per intercultura quindi mi piace stare anche con confrontarmi con altre culture e altri punti di vista e a scuola faccio anche orientamento il mio occupo di orientamento per i ragazzi delle scuole medio-inferiori e per i ragazzi in uscita e in realtà quello che mi aspetto da questo incontro è la possibilità di poter orientare anche i miei ragazzi cioè i ragazzi di questa scuola e soprattutto se radicare la sfiducia che hanno quanto ce ne è bisogno qualche miseria ogni volta che io vedo un sindaco cosa del genere mi metto in ginocchio e mi ha detto ma fate un giorno di orientamento sta povere anime Cristo Dio perché scusate no no infatti io ho provato anche qualche anno fa a contattare centri farmagiovani assessorati alla cultura dell'istruzione dell'area limitro per la mia scuola proprio perché ha degli sportelli di informazione che fossero in verticale cioè cominciassero dalla scuola media esatto ma tra l'altro non tanto orientamento magari come tante volte si fa male dice solo quali sono le università ma soprattutto un discorso di capire che tipo di persona sei e che cosa vuoi fare che è la cosa importante è vero è grossissimo limite io mi ricordo anche l'area di un'entrata quando si sceglie quando le ragazze in scuola media scegliono scegliono per sentito dire perché c'è il cio scientifico come l'orientamento scolastico di massa diciamo così nessuno si interroga e si chiede cosa mi piacerebbe fare con le mie anche in azione è vero che sono piccoli però non sono anche convinta che non ci sia già una vocazione un'attitudine su cui puoi lavorare devo dire che la mia è una scuola d'arte quindi sono riuscita anche a mettere insieme la mia passione mi piace insegnare la mia passione per il lavoro è tantissima però ho anche questa inchinazione artistica lavorando in una scuola d'arte mi occupo degli eventi collaboro sempre con i colleghi insomma un po' artisti un po' creativi ok altre passioni proprio al di là del lavoro lettura tu i di sicuro un po' di s anche vai tu quindi anche a te dobbiamo rivolgerti se vogliamo se vogliamo andare via col sole le passioni sono tante arti marziali e arti meditative qual è l'assoluto meglio non farti arrabbiare tranquilla film di spionaggio tutto ciò che ha a che fare con serie televisive americane di bingo bingo? di bingo ah di bingo capito bingo no bingo vecchi con lo stampino infatti ha detto che c'è arti marziali e bingo ok e quindi lavori in pianta stabile qui? no no fai quindi sei un po' alla ricerca anche alla ricerca proattiva vedo che magari Nicola va già educato a dire che non siete disoccupati ho avuto modo di conoscere anche in altre situazioni altri contesti prima di questo laboratorio quindi ok indattivo è ben è in fase di elaborazione eventualmente e mi piace sempre reinventarmi di bingo quindi ok e se quindi da questo qua ti aspetti di anche di un po' di ho parlato da qualche anno e sto a un livello in più di aspettative ho parlato della mia formazione al counseling che mi ha insegnato principalmente questo ho proprio voglia di confrontarmi e di conoscere perché so che insomma ho l'idea che seguire persone che operano e poi mettono in pratica attraverso questi laboratori possano mettere in pratica quello che hanno esperito secondo me è molto alchente perché significa confrontarsi con qualcosa che hanno potuto toccare concretamente e mettono a servizio anche degli altri quindi è questo che mi motiva particolarmente a essere qui in questi giorni in questi incontri ok ID anche per te allora io sono Nadia Saprenaro sono psicologo del lavoro e sono anzi io responsabile una volta l'altra volta di questo che siamo qui quindi è qualcosa anche mia non è solo colpa di me io faccio la libera professione mi occupo di risorse umane ma anche di sociale di reinserimento socio-laborativo di soggetti svantaggiati lavoro da circa 4 anni in particolare con gli ex fossili dipendenti anche se non è l'unico target in cui mi occupo faccio anche quando capi penso a una selezione e soprattutto orientamento che è quello che forse ha più è più il centro diciamo di una serie di situazioni cioè attraverso l'orientamento si riesce a lavorare su tanti fronti soprattutto quando si fa a scuola io sono presidente di un'associazione che è l'altra associazione insieme a Mucci Attiva che ha promosso questo lavoro che è segretaria di un'associazione culturale un po' così defilata e le mie passioni a rilasso sono due o tre in realtà una in particolare che ultimamente la sto proprio mettendo in pratica sono i telefilm americani delle serie telefilm americani che sta coinvolgendo molto le persone ce ne sono alcune che sono tutte le persone e poi vabbè un po' di tempo fa un po' di tempo fa leggevo un po' di più della mia passione ovviamente in effetti non riesco più tanto perché sono un po' stanca non riesco a leggere più prima cinema quando è possibile mi piace molto e basta non sono sportiva e quindi da questi due giorni più o meno allora io da tutto il laboratorio mi aspetto che si parli di orientamento in maniera un pochettino più concreta e quindi anche da questo da questi due giorni mi aspetto concretezza molte volte ho partecipato a una serie di anche seminari sull'orientamento ma soprattutto a livello istituzionale se ne parla ma se ne parla in maniera un po' così ma neanche sembra quasi sembra quasi dei discorsi che non hanno concretezza quando in realtà non è così forse si usano i termini sbagliati per spiegare una cosa che poi a livello pratico è veramente molto più semplice o comunque molto più vicina di quanto si pensi l'idea che avevamo era proprio quella di cominciare a mettere un po' di ordine o perlomeno di capire che cosa si sta facendo a livello locale e nazionale soprattutto sull'orientamento fare sì un confronto e fare in modo che gli operatori dell'orientamento cominciano a capire un po' come si devono muovere perché c'è molta confusione nel settore veramente tanta ci sono troppe persone che fanno orientamento senza però avere una linea comune quindi è giusto cominciare a discuterne e la speranza è quella che se arrivi a creare un network una rete tale per cui insomma perlomeno ci si metta d'accordo su che cosa significa fare l'orientamento e su come farlo perché è difficile confrontarsi magari io ho un metodo un modo di vedere la cosa mi confronto con un insegnante che ha tutta tradizione mi confronto con un altro tipo di esperto che fa orientamento ma lo fa in un altro modo invece è bene secondo me cominciare insomma a lavorare insieme collaborando e lavorando sulla stessa cosa altrimenti non si capisce quindi comunque ti porti a casa qualche altro metodo di orientamento cioè quello ti interessa a livello personale mi serve perché è giusto insomma avere delle prospettive diverse per poterci lavorare anche capire anche capire se quello che si sta facendo in effetti è confuso oppure se è sbagliato capire se ci sono degli errori capire se ci sono invece delle cose che vanno valorizzate e su cui bisogna insistere e devo dire che finora in effetti le mie aspettative sono state rispettate insomma ho esattamente ottenuto quello che pensavo di ottenere adesso vediamo come va il resto e penso se non è positivo ok I S e anche un pochino di D D però non ho capito che cosa però tu hai capito che lo sto facendo sì D che non mi eh dopo ve lo vediamo io sono Elena servizi pubblici per l'impiego momento di confronto con un target che sicuramente è diverso dal mio solito di riferimento cioè dici questo rispetto al tuo solito rispetto proprio al nostro tra virgolette eumea pulpa essere un pochino autoreferenziale insomma gli enti pubblici adorano amano poco confrontarsi con il resto del mondo amano poco punto no dai scusa esagero esagero sono nelle politiche del lavoro da oltre vent'anni mi occupo di orientamento la mia passione sono i giovani ragazzi non mi 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 ho solo 44 anni il boy boy me lo posso ancora permettere dei ragazzi e delle ragazze perdonatemi perché le faccine così perse nel momento in cui arrivano da noi chiedendo anzi non chiedendo perché molto spesso non hanno neanche a riferimento che tipo di richiesta mi inteneriscono probabilmente perché ho due giovani figli maschi e quindi rivedo e viene fuori la mia indole materna che cosa mi aspetto purtroppo mi sono persa la prima tre giorni che cosa mi aspetto da queste giornate sicuramente un momento di aggiornamento assolutamente in effetti i nostri la nostra modalità operativa è un po' stantia noi siamo una giovane provincia parlo della provincia di Barletta Andrea Trani e devo dire e forse anche per questo sono qui un po' per promuovere questa ventata di gioventù che è arrivata da giovani dirigenti della nostra provincia e quindi che approcciavano il loro lavoro il loro impegno con un con un modus tutto nuovo e quindi anche per portarlo all'esterno perché si possa ecco veicolare il fatto che anche noi stiamo tentando un lavoro di trasformazione e anche di osmosi nel senso di proprio contatti con il resto del mondo è sicuramente un arricchimento personale proprio dal punto di vista mio personale perché ritengo che comunque non si debba mai cessare per ritornare al tuo inglese life long learning giusto per rimanere in tema formazione continua assolutamente lungo tutto l'arco della vita assolutamente le mie passioni assolutamente walking with my dog con il mio cane e da quattro anni ormai la lettura quando posso certamente e da quattro anni ormai la face therapy con la mia mamma malatta di alzheimer ah ho capito si è stupendo perché il mio cane vabbè non mi fate parlare del mio cane perché se no non lo smettete il mio cane ha riferimento esattamente a tutti i componenti della nostra famiglia cioè se gli dici vai da Michele lei va da Michele se gli dici vai da Enzo va da Enzo se gli dici la nonna lei va dalla nonna quindi che cane è? è un trovatello ah ok appena finiamo te lo mostro perché naturalmente è sullo schermo di Michele ah no pensavo che lo portassi qua a me piacciono i cani tra l'altro beh è un bel cagnone non l'avrei potuto portarlo in cagnone meglio per me scusate sapevo di dover portare no no ma parlavamo anche delle nostre passioni insomma è una passion importante assolutamente tu sei un bel tipo secondo me sei una D però lei è un pochino anche anche un po' a S SI D soprattutto però col tempo hai imparato a riequilibrarlo con l'SI poi vedremo penso anche tu mi capisci mi capisci più o meno più o meno molto più o meno mi sono dimenticata di dire dei momenti di volontariato indotti nel senso che la Caritas molto spesso con gli immigrati mi chiede mi chiede sulle lucidazioni chiarimenti sulle problematiche varie e quindi insomma negli anni mi occupo mi sono occupata ma molto volentieri anche di questo aspetto ok bene cominciamo no invece abbiamo già cominciato ci è voluto un po' ma è bene che sia stato così perché quando facciamo questa cosa spesso la gente pensa che palle adesso parlano tutti magari non ci si ascolta però la cosa più importante è ascoltarci noi stessi in realtà questa è già la parte più importante forse della ricerca del lavoro adesso qua sono pieni di psicologhe del lavoro quindi sfondo una porta aperta più o meno nel senso che l'autoriflessione è la vera cosa che manca nella ricerca del lavoro cioè capire chi siamo come dico spesso nella frase il mio lavoro il soggetto è io non è lavoro e invece tutti quanti pensano che sia il lavoro ok allora siete un pubblico abbastanza diverso da quello che mi aspettavo tante donne tante psicologhe e meno cercatori di lavoro però è importante che ci siano anche quelli poi all'atto pratico perché chi di voi al di là del fatto che abbia già un lavoro sta buttando l'occhio per cercare qualcos'altro per alzata di mano veloce ok anche tu anche voi due siete alla ricerca quindi più voi due che comunque perché proprio lo state certo perché siete alla ricerca e anche tu chiaramente sì certo allora il programma del corso diceva che almeno quello che mi è stato mandato è stato che questa prima giornata dovremmo dedicarla tutta quanta ai beneamati bacini occupazionali cioè dove va il lavoro ovviamente anche per questo ho preparato dei materiali però sappiate che non ci credo per niente questa cosa qua quindi la facciamo perché bisogna farla perché comunque è giusto saperla però e qua già partiamo con la prima questione credo di confronto e con cui mi scontro ma mi scontro positivamente con molte persone è perché abbiamo questa ossessione di cercare un lavoro che il mercato cioè di fare un lavoro che il mercato del lavoro ci chiede cioè sembra quasi che noi che cioè il lavoro è il nostro perché dobbiamo fare qualcosa che ci chiede qualcos'altro e la cosa tragica è che io parto quasi sempre con una domanda molto semplice ho lavorato tanto con ragazzi giovani che è bellissimo perché è molto più facile che farlo con quelle poche volte che mi è capitato ma perché è normale che sia così con cassa integrati con gente che è stata 10-15 anni in disoccupazione eccetera e loro magari sono pieni più di entusiasmo sono brillanti cioè ti tiri veramente su a vedere almeno i ragazzi che incontro io piccola parentesi ovviamente c'è sempre un bias visto che siete psicologi lo sapete chi è che non sa cosa è un bias un bias è una falsa convinzione praticamente cioè tu ritieni che la spiegazione di una cosa sia una quando in realtà c'è un altro fattore molto grosso comunque preponderante che può essere la vera spiegazione o comunque qualcosa che influisce molto per dire per farti un esempio ecco una cosa per esempio è il lavoro all'estero no tante persone pensano e vengono da me e anzi ci dicono sempre ah andare in Germania andare in Danimarca è tutto più facile no perché ovviamente senti le persone la sembrano tutte felici orientate ci sono più possibilità certo allora quella è una parte della ragione è vero che è un po' più facile in altri paesi però il grosso della ragione è che chi va all'estero sa intanto si mette in discussione niente intanto si mette in discussione e rinuncia a qualcosa di importante per se stesso ma soprattutto ci va per un obiettivo e quindi già solo il fatto che ci vada vuol dire che sta inseguendo qualcosa e quindi si sente già di solo per questo più equilibrato e felice rispetto alle persone che non sanno dove stanno andando ok quindi questo per esempio è un bias cioè tu ritieni che sia solamente per il contesto nazionale invece in realtà è soprattutto perché una persona fa un passo decisivo verso una direzione chiara ok comunque non voglio perdermi ma ci arriviamo anche dopo anche a questo e quindi ero arrivato al bias che era di riguardo a ecco vedete mi sono perso come al solito va bene allora no comunque sì 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 bacini occupazionali che dovremmo parlare solo di quello ok allora qual è il bias detto cioè che quando gli chiedo ai ragazzi perché volete lavorare e a questo quasi cioè quasi nessuno sa rispondere tutti con gli occhi bassi perché vuoi lavorare no e qualcuno ha detto perché si deve fare ha detto insomma non è neanche così vero cioè anche qua all'esempio all'estremo è il monaco che si ritira in una grotta per meditare se il suo valore nella vita è la ricerca di Dio è il suo modo di trovarlo è la preghiera non ha bisogno di niente c'è bisogno di uno straccio di una ciotola di riso ed è tutto lì se avete mai letto Robinson Crusoe o avete mai visto Bear Grylls che si mangia gli insetti e va in mezzo alla savanna c'è quel matto lì che si fa paracaduttare in mezzo al deserto per provvedere come si sopravvive le cose di cui abbiamo veramente bisogno sono molto poche in realtà cioè sono un tetto sopra la testa un riparo qualcosa da mettersi addosso e mangiare queste sono è un po' di sesso che non fa male però c'è anche chi riesce a fare a meno anche di quello e quindi voglio dire non è che ci serve per forza tanto denaro per fare questa cosa qua e la cosa che traspare chiaramente è sempre questa ma voi preferite preferireste fare per 40 50 anni per tutta la vostra vita perché poi parliamoci chiaro chiunque adesso abbia meno di 35 anche secondo me 40 anni non riceveva mai la pensione quindi mettiamocela via in Italia almeno perché non ci avremo mai soldi per pagarle preferite fare per il resto della vostra vita 8 ore al giorno qualcosa che ogni mattina vi svegliate e odiate oppure e avere una casa avere una macchina 2-3 cellulari queste cose qua oppure preferite fare qualcosa che vi piace e svegliarvi ogni giorno contenti di farlo e magari avere qualcosa in meno ma non è detto perché poi la grande verità e il paradosso è che fare la cosa che ti piace di solito ti porta a fare più carriera ed è più facile da trovare se tu cerchi la cosa che ti piace è il lavoro più facile da trovare questo è il messaggio che all'inizio do a tutti e tutti mi guardano tipo così anche lì io lì faccio un mezzo trucco perché è il più facile ma non è il più semplice perché ci vuole metodo ci vuole più tempo però anche lì cercare una cosa che ti piace ti fa lavorare meglio ti fa lavorare di più ti fa aggiungere qualità alle cose che fai e quindi ti fa diventare migliore rispetto alla concorrenza tra virgolette e ti fa avanzare di carriera è tutto abbastanza semplice però noi viviamo invece in un contesto in cui ci viene continuamente detto c'è crisi c'è poco lavoro devi trovare qualcosa il prima possibile sistemarti è abbastanza normale perché sono anche scusate sono esplicito ma le generazioni un po' più vecchie che si preoccupano di quelle più giovani vorrebbero vederle stabilizzate subito stabilizzate tipo morte orizzontali orizzontali ma questo è normale perché vorrebbero vedere una sicurezza nella famiglia però questo porta spesso a delle tragedie nel vero senso della parola personali perché quante persone sono andate a studiare o a fare un percorso lavorativo perché gli è stato detto dai genitori o perché il cugino faceva la stessa cosa e allora si potevano dare i libri veramente sto esagerando ma neanche tanto perché succedono queste cose quante volte uno non aveva un'idea abbastanza chiara di quello che voleva oppure più facilmente gli è stato detto di reprimerla un poco e allora si è adattato alla cosa che diciamo il contesto soprattutto familiare ma anche sociale gli diceva che era da fare ok ma perché anche in quell'età lì siamo nell'età della formazione come voi tutte sapete bene e quindi è normale che ci sia questo contrasto tra la parte interna che si sta sviluppando e il seguire gli input che ti vengono dall'esterno e questo cosa porta? porta che alla fine molte persone si trovano incastrate per il resto della vita in una cosa che non gli piace e cosa c'è di peggio di questo? e la cosa paradossale è che tutti cercano di andare da quella parte lì no ho detto io faccio ecco un altro esempio bello mi è cambiato una delle prime lezioni che ho fatto con i ragazzi che erano 16 anni 17 anni c'era un ragazzo che ha detto io voglio o volevo fare l'attore il mio sogno il mio obiettivo era andare a New York a studiare all'accademia di New York ma adesso da 6-7 mesi non ci penso sto cambiando idea perché quando l'ho detto la mia insegnante mi ha riso in faccia e da lì insomma io ho cercato di dirgli questo ho detto ma pensa a questo se tu hai il tuo obiettivo e lo hai identificato tramite in una maniera che poi vedremo tu se vai a New York e anche se vivi a Brooklyn nella strada più pericolosa di Brooklyn e vendi patatine al McDonald's ma fai quello che ti piace fai il corso almeno ti stai dando una chance tu sarai più contento e più felice e più equilibrato dell'insegnante che probabilmente è stata inserita lì perché voleva sistemarsi per il resto della sua vita da una persona frustrata e per questo ride di te perché hai un obiettivo mentre lei probabilmente ne ha fatto a meno quindi di cosa stiamo parlando è davvero così importante la parte economica della nostra vita io con Nicola adesso ho finito di scrivere un libro che si chiama anche Soldi Leggeri che speriamo adesso sia pubblicato sui 24 ore nel senso che ce l'hanno commissionato l'abbiamo scritto ma siccome l'editoria non sta benissimo adesso ci devono ancora confermare se lo pubblicano però quindi mi sono molto informato sull'approccio al denaro e cose del genere e veramente noi abbiamo tutto questo sottofondo intorno che ci dice devi avere una certa serie di cose per essere accettato socialmente e Dio solo sa quanto è importante avere questo senso di integrazione sociale però un pochino il ghiaccio che prima era molto spesso adesso si sta un pochino frantumando e cominciano a nascere un'attenzione verso stili un po' diversi non voglio uscire dal seminato però è una cosa molto secondo me interessante dal punto di vista storico quello che è successo guardate la crisi perché c'è la crisi è abbastanza semplice in realtà io la vedo non la vedo da esperto la vedo da fuori ma confrontandomi anche con esperti insomma me l'hanno confermato che il succo infonde questo cosa è successo che dopo la seconda guerra mondiale come storicamente succede le tecnologie e la repressione dell'economia dovuto all'evento bellico è esploso tipicamente se vedete la storia dell'umanità dopo che c'è un conflitto c'è un rimbalzo chiaramente perché la guerra spinge a in qualche modo la società ad evolversi sotto certi aspetti ma li reprime perché ovviamente c'è un contesto molto difficile poi quando questo cappello viene via boom si esplode e quindi è normale questo cosa è successo però che dagli anni 50-60 in poi il mondo ha cominciato ad unirsi la famosa globalizzazione e cosa è successo che per la prima volta l'uomo non solo era in grado di vedere il mondo come un unico mercato tra virgolette e poi lo è diventato davvero con la World Trade Organization ma aveva anche la possibilità di distruggerlo e questo l'ha detto anche un filosofo molto interessante Jonas che ha fatto un sacco di ragionamenti belli anche se un po' inquietanti su queste cose per la prima volta dalla bomba atomica in poi noi teoricamente siamo in grado di distruggere il pianeta tra virgolette il pianeta perché il pianeta di noi si fa un baffo come diceva George Carlin che è un grandissimo comico americano il pianeta sta benissimo le persone sono fregate ok cioè noi abbiamo la possibilità di autodistruggerci ed è per questo poi se ci pensate che c'è tutta questa fascinazione da un sacco di anni per la fantascienza per il futuro queste cose apocalittiche perché noi tutti abbiamo la percezione che le nostre tecnologie corrono più veloci di quello che noi riusciamo a controllare in qualche modo allora cosa è successo molto più semplicemente si è attivato il meccanismo del cosiddetto consumismo che era basato su un circolo che si pensava virtuoso e che è stato virtuoso molto semplice più la gente consuma più le fabbriche producono più le fabbriche producono più la gente lavora più la gente lavora più guadagna e più guadagna più consuma e questo circolo ha dato beneficio a tutti tutti potevano permettersi di più la ricchezza globale anche se molto disequilibrata rispetto alle aree è esplosa però questo modello qui non faceva i conti con due risorse limitate uno il lavoro e l'altro le risorse della terra le risorse della terra le consumiamo al ritmo di una terra e mezza all'anno cioè non che in un anno consumiamo tutta ma quello che dovremmo consumare in un anno in realtà lo consumiamo una volta e mezzo ok questa è l'impronta ecologica e questo è un tema che conosciamo è gravissimo che teniamola l'altra parte è quella del lavoro il lavoro è stato un po' calmierato questa cosa dalla tecnologia dalla robotizzazione insomma che hanno tolto un po' di lavoro manuale però nonostante questo se ci pensate quanta gente cioè quanto noi ci sentiamo più stressati quanto lavoriamo in più rispetto alla generazione precedente e senza parlare di cosa succede in Asia o in Sud America dove la gente lavora 18-19 ore al giorno per mantenere questo sistema folle qua e questo ha portato che nel 2007 nelle borse mondiali c'era 7 volte il più del mondo 7 volte il più del mondo quindi vuol dire che sulla nostra testa giravano e girano soldi che sono 7 volte il valore delle cose perché il denaro crea denaro un esempio semplice di come si crea denaro dal denaro è per esempio io ho una società tu hai una società di calcio mettiamo io ho un brocco in panchina tu hai un brocco in panchina ce li scambiamo per 20 milioni di euro ok? allora il mio verrà in panchina da me cioè il tuo verrà in panchina da me e il tuo e il mio verrà in panchina da te la capacità produttiva è rimasta la stessa abbiamo solo invertito i brocchi diciamo ma cos'è che è cambiato? che dentro la nostra società abbiamo una cosa che vale 20 milioni di euro in più e capite che quindi si è creato valore su una cosa che non c'era e in più noi abbiamo adesso abbiamo due società da 20 milioni di euro andiamo in banca e pronti i soldi voi non so più o meno giovani probabilmente comunque vi ricordate quando le banche ti davano il mutuo al 110% per la casa perché anche lì c'è stato un sistema legato alla World Trade Organization al fatto che gli investitori potrebbero investire da qualsiasi parte nel mondo a prescindere dal rischio che poi è stata tolta la divisione che è stata inserita proprio guarda dopo il 29 dopo la crisi del 29 tra le banche commerciali e le banche di investimento cioè le banche che prendono i soldi dalla popolazione non dovrebbero investire quei soldi in fondi di rischio di cui non sanno e quindi si è creato tutto questo marasmo dei soldi e la notizia è che questo modello non è finito per niente perché è stato messo in crisi nel 2007 ma la risposta a quale è stata? inondiamo di soldi il mercato almeno questo è quello che hanno fatto il Giappone e gli Stati Uniti gli Stati Uniti fin dal primo momento e non è un caso guardate la settimana scorsa anzi pochi giorni fa si è privata ai giornali c'era gli Stati Uniti rimandano il problema del tetto del debito perché loro per legge devono stare sotto un certo debito se no va tutto in default quindi l'hanno rinviato in sei mesi e dall'altra parte lo Standard & Poor's è un nuovo record storico ok? quindi come si spiegano queste due cose? perché c'è e la Cina è tornata a crescere del 7% quest'anno dopo che per 2-3 anni era tornata al 2-3 a livelli quasi più umani diciamo e il Giappone mi pare che gli Stati Uniti abbiano stampato 82 miliardi di dollari al mese ok? è chiaro che tutta sta massa di denaro prima o poi arriverà a toccare il mercato ok? quindi c'è veramente una grossa spada di Damocle sulla nostra testa e questa è la parte negativa va bene però le crisi alla fine servono perché noi tutti ci rendiamo conto di dove siamo e questo dovrebbe portarci a riflettere che intanto non è più sostenibile lo stile di vita che ci viene comunicato e che noi quasi tutti in varia maniera desideriamo altro esempio che faccio spesso qualche mese fa anzi ormai così un anno fa parlavo con mio padre lui legge la stampa e la stampa adesso purtroppo non lo fa più ma al tempo faceva una bella operazione metteva in ultima pagina la prima pagina di 50 anni prima ok e in questa pagina qua lui mi ha mostrato quindi pagina del 1962 o 63 c'era scritto l'unione sovietica decide attesta insomma comanda ai sovietici che ogni famiglia sovietica dovrebbe avere non più e non meno perché c'era ancora il comunismo chiaramente di un vitello una vacca e un maiale e lui mi ha detto guarda io questa cosa qua me la ricordo perché ero bambino e tuo nonno quindi suo padre mi disse al tempo guarda che ricchi che sono nell'unione sovietica che possono permettersi un maiale e una vacca a testa perché i miei nonni erano coltivatori non erano poveri non stavano benissimo però avevano le loro cose e cavo avere una vacca e tutti quanti e un maiale a testa sembrava cioè fortunati loro da questo nello spazio di due generazioni siamo arrivati a pensare che sia un dovere e un diritto di tutti avere una o due macchine una o due televisori una o due tre cellulari andare in vacanza avere la casa di proprietà non sto facendo colpa a nessuno però capite che non è sostenibile sta cosa cioè che in due generazioni siamo passati da questo all'altro e ci aggiungo anche un'altra cosa mentre una volta c'era più e questo sicuramente interesserà il nostro amico sindacalista mentre una volta c'era un patto generazionale che era legato proprio alle risorse nel senso che se io sono un coltivatore e faccio dei figli io lavoro per tenere in vita i miei figli no cioè mentre lavoro io porto a casa il pane per sfamare me ma soprattutto i miei figli quando sarò vecchio saranno loro a lavorare per me e per i figli successivi quindi c'era questa solidarietà intergenerazionale che ci sosteneva cosa è successo? che con l'idea della pensione sacrosanta e tutto a parte che anche qua adesso passerò per il solito guastafeste e magari anche fasciste e il resto ma è la verità guardate che nessuno di quelli che è in pensione adesso se l'è pagata tutta nessuno cioè tutti quelli che sono in pensione adesso stanno o riceveranno di più di quello che hanno contribuito e anche lì è un regalo dello Stato in questo senso ma cosa è successo? che praticamente se noi pensiamo che quello che noi lavoriamo adesso serve a pagarci la nostra pensione è che ce ne frega della generazione successiva no ma perché mi viene a prendere a me la mia pensione no? ho lavorato io per la mia e tu lavorerai per la tua e questo ha fatto in modo che le generazioni abbiamo questa idea che vadano su binari paralleli e che quindi non si contano e poi all'atto pratico la generazione prima supporta ancora quella esistente perché le risorse sono distribuite male quindi si compra la casa al figlio si compra l'università tutte queste cose qua ma è normale perché poi la solidarietà dentro la famiglia rimane ma il problema è che c'è proprio questo meccanismo che si è scollato che incastrava le generazioni fra di loro ok tutto questo per dire dobbiamo davvero preoccuparci così tanto di trovare prima possibile un lavoro che poi non ci piace oppure è meglio spendere 5 ma no molto meno poi dipende dalle zone perché anche qua bisogna fare un atto di realtà io vengo da una zona più fortunata probabilmente della vostra perché ci sono più aziende ci sono probabilmente più opportunità però quello che fa veramente la differenza è come si approccia il mercato perché tutti quanti si vanno a infilare c'è questa idea che bisogna tutti quanti infilarsi nel grande imbuto degli annunci e delle grandi aziende e poi vedremo che è una cosa mortale altro esempio quando c'è stata una notizia anche lì 2-3 mesi fa Ikea ha aperto un nuovo centro centro Italia non lo so Umbria queste cose qua e hanno avuto 10.000 curriculum una roba epocale e là intorno ci saranno piene di piccole aziende che non trovano un lavoratore o non lo cercano il censimento nel 2010 ha trovato che ci sono in Italia 500.000 posti di lavoro in evasi ed è una larga sottostima cioè loro hanno chiamato le aziende e hanno detto a voi serve un lavoratore in più sì a prescindere che lo stanno cercando o no e queste sono venute fuori 500.000 posti di lavoro ok il che vuol dire che probabilmente ce ne sono ancora di più perché anche qua due cose veloci poi metto tutta carne al fuoco che poi sarà più incanalata quando comincieremo a fare il corso più più ordinatamente allora la prima cosa da dire è che il 95% delle aziende in Italia hanno meno di 10 dipendenti il 90% ne ha meno di 6 e il 45% sono una sola persona queste persone qua hanno comunque bisogno di lavoro come diceva Keynes mi pare anche lì in una storia interessante è il il lavoro esiste a prescindere dai soldi ok anche in una società che non ha soldi o che non ha scambio non ha neanche le conchiglie ok però proprio perché abbiamo dei bisogni di base e comunque dei bisogni occasionali perché prendiamo il villaggio primitivo il fulmine colpisce la tua capanna hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a ricostruirla oppure ti ammali e allora hai bisogno di qualcuno che vada a uccidere un animale e portarti la carne quindi c'è sempre bisogno di lavoro a prescindere da quanto denaro c'è intorno anche qua c'è una storiella paradossale un po' però anche lì interessante che Keynes che poi probabilmente sapete uno degli economisti di riferimento del primo novecento che poi ha influenzato gran parte dell'economia successiva che si dice una volta a New York ha incontrato un costruttore poco dopo la crisi del 29 quindi insomma la depressione degli anni 30 e questo costruttore ha detto vorremmo proprio costruire un grande centro di uffici cosa del genere a New York ma non possiamo e Keynes gli ha fatto ma perché vi manca la gente che ci lavori noi abbiamo operai anzi che sono lì e sono fermi che aspettano ma allora cos'è vi manca la malta vi mancano i mattoni no no abbiamo tutti i magazzini pieni di malta lì che aspettano di essere utilizzati e allora perché non lo puoi costruire cioè adesso esagerando ovviamente però le materie ci sono già lì ok l'unica cosa è attivarle per attivare lavoro in questo senso ok quindi questo cosa porta che tutti quanti si incastrano dentro lo stesso imbuto e soprattutto entrano in questo questo meccanismo mecidiale che è quello degli annunci per cui ciao buongiorno per cui tutti quanti pensano che la ricerca del lavoro sia spendere 20 minuti mezz'ora quando si è bravi su internet mandare curriculum quasi a caso e non si trova lavoro e si dice io sto cercando ma non lo trovo e poi ci si trova tutti quanti al bar a dirsi mannaggia non si trova lavoro guardate che il lamento è la prima malattia dell'uomo è virale è come una droga perché cioè ci piace lamentarsi lamentarci non neghiamocelo perché è bello andare là e dire su dai non è colpa tua ok è una cosa succede è così è tutta una tragedia e poi lei farà lo stesso con me quindi e la cosa tragica è che si espande viralmente questa cosa qua perché se lei ascolta me teme lamentarsi comincerà a lamentarsi anche lei ma per il semplice fatto che comunque essendo dentro lo stesso contesto magari vuole interagire con noi e quindi cerca lo stesso tipo quindi capito quanto è difficile uscire da da questo mood qui e andare a intercettare quelle almeno 500.000 posti di lavoro che ci sono ma che non vengono fuori con gli annunci poi vedremo anche come fare quindi questo è un pochino il quadro generale siamo in un sistema che non funziona che probabilmente ci porterà a una crisi peggiore di quella in cui siamo ma la cosa positiva è che nonostante tutto questo abbiamo già tutte le cose per vivere tra virgolette felici e abbiamo più opportunità rispetto a una volta perché la tecnologia c'è e rimarrà in qualche modo la cultura che si è evoluta nel famoso secolo breve del novecento rimarrà non è che ci dimenticheremo come si costruisce un microchip o delle reti sociali o del sviluppo della cultura della sensibilità quindi questo è un progresso di fondo non tecnologico ma culturale c'è stato e questo rimarrà ok e comunque rimangono più possibilità per noi per trovare lavoro in maniera attiva dimenticandoci dell'ossessione di andare a cercare quello che il mercato del lavoro ci chiede e di trovare una soluzione facile tra virgolette cioè il più veloce possibile in modo da non pensarci più e poi magari andare al bar lo stesso a lamentarci e dire o c'è un lavoro che mi uccide il capo mi rompe le balle le colleghe i colleghi sono non ci sono arrivano tardi sono precisi sulle robe non mi lasciano tranquilli capito che paradossalmente si trova nella stessa situazione del disoccupato la persona occupata dal punto di vista di quanto felice è perché si è incastrata in una cosa che non gli piace ok in fondo l'unico obiettivo che noi tutti abbiamo in comune nella vita è essere felici non è avere i soldi ok e trovare un lavoro che ci piace è il più grande regalo che possiamo farci anche qui uso una metafora montana spesso no? detto generalmente pensiamo che ci siano due approcci o due tipi di persone nella vita chi sta alla base della montagna e dice che bello sarebbe andare lassù troppa fatica no sto qua mi guardo un po' i fiorellini e il resto però chissà che bello essere là e invece c'è poi l'altro che dice devo arrivare in cima devo arrivare in cima devo arrivare in cima arriva su e dice bello che faccio? se è fatta una certa torno giù il bello è nel mezzo cioè andare verso un obiettivo godendosi il panorama è così che si fa no? e quindi andare verso non solo il lavoro ma il valore che si è individuato l'attività che ti piace poi sono tutte cose che poi ritorneranno vedrete godendosi il panorama è tutto là non importa poi se ci andiamo con le scarpe strafighe o con una magliettina bucata l'importante è che sappiamo dove stiamo andando anche qui c'è una storia molto carina che poi magari vi faccio vedere di Cacioppo che è uno dei dei comici di Zelig quello siciliano il rapato non so se avete mai visto poi ve lo faccio vedere è uno sketch molto no no anzi no perché dopo mi anticipo ve lo faccio vedere dopo ok lavorando senza guadagnare senza soldi no sì no non senza soldi no allora no no però lo sta portando all'estremo è giusto allora paradossalmente anche senza soldi come abbiamo visto c'è l'esempio dell'eremita ok però è vero che anche tu hai dei bisogni di base che noi dobbiamo in qualche modo soddisfare l'eremita li soddisfa con le offerte diciamo però questo è il caso estremo un pochino di soldi per vivere decentemente ne abbiamo bisogno però il bello è che se tu ed è questo il vero messaggio che se tu cerchi e fai la cosa che ti piace ci arriverai meglio è questo il paradosso mentre la gente pensa faccio quello che il mercato mi chiede perché voglio risolvere il problema subito così pago subito il mutuo esatto lo voglio ma perché lo vogliono perché non sanno cosa cercano come fai io dico sempre quando gli chiedo perché volete lavorare ma come fate a trovare un lavoro se non sapete cosa volete fare o pensate che questa è un po' l'idea che abbiamo sotto che la prima cosa che passa la prendo e me la porto a casa se ho la botta di culo che mi passa vicino ok se invece passano lontano dico che passano tutte lontano non c'è niente da fare invece di andare là e dire voglio quella roba lì e te la prendi ok già solo il fatto di farlo il famoso ragazzo che va a New York per studiare recitazione e vende patatine al McDonald's già solo fare quello lo rende contento e chi se ne frega dell'insegnante che invece a 20 anni per andare in pensione a 50 è diventata insegnante e odia il suo lavoro ogni giorno paradossalmente anzi non paradossalmente ma paradossalmente rispetto a quello che ci viene insegnato il ragazzo ha fatto l'affare io faccio musica quanta gente conosco se forse la conoscete anche voi la faccio per passione che ha la passione della musica e si è dedicata a quello e vive perché è una tragedia vivere di musica in Italia vive come pochissima quanto serene sono quelle persone là sono tranquille sono beate vivono di poche robe ma la vera tragedia ecco qua sarò onesto è che c'è anche un problema di avere dei soldi per fare figli che è un altro istinto nostro importante però anche lì si può tagliare su tante cose si può fare tendiamo a pensare che le cose costino di più di quello che in realtà poi se togli molta roba quindi vivere leggeri molto spesso aiuta la felicità non è avere di più ecco l'ultimo input che vi do è interessante poi veramente cominciamo o facciamo una pausa mi dite voi vediamo se mi adopero come tecnologico perché non ho la lavagna però ve lo provo a disegnare se c'è paint vediamo un attimo allora abbiate un attimo di pazienza la versione nuova non la conosco allora vabbè scusate la faccio proprio a mano allora la gente di solito pensa che il grafico che va tra la felicità e i soldi ok felicità e soldi sia più o meno così ok quindi una cosa a 45 gradi più soldi ho più sono felice ok non è vero perché invece la curva questa non me la sono inventato io è un sociologo americano è una curva a campana che fa più o meno così ok e allora qui c'è il sufficiente qui c'è l'abbondante e qua c'è l'abbastanza che è il punto chiamato così anche se è tradotto male da enough ok abba come il gruppo abba ma insomma abbastanza ok questo è il picco della nostra felicità ok della soddisfazione quindi se uno non ha niente ma proprio niente diciamo che secondo questo modello ma è difficile che sia contento appena riesce nel senso che non riesce neanche a soddisfare i suoi bisogni di base ok che è quella appunto di mangiare di avere un tetto sopra la testa di coprirsi di riprodursi principalmente ok appena comincia ad avere un po' di più ecco beh forse la linea devo metterla tipo qua la sua felicità schizza verso l'alto perché vede che comincia a soddisfarsi in qualche maniera no fino a che passa la parte della sufficienza e riesce a risolvere i suoi beni di base poi mano a mano che aumenta la sua ricchezza ecco più dei soldi la ricchezza no anzi soldi giusto perché ricchezza non in senso completo ma proprio monetario la sua curva continua a salire ma più lentamente poi arrivato a un certo punto comincia a declinare e più ha più si sente infelice se non ha un obiettivo chiaramente ok quindi quante volte sentiamo la storia del quello che ha tutto no che è nato ricco che è felice che ha 4-5 macchine in garage e però sta male cioè non vive bene è frustrato e quante volte abbiamo sentito eh non sa cosa fare sta a casa tutto il giorno bearsi nel suo lusso magari compra un'altra cosa per perché l'acquisto come il lamento anche lì è una droga cioè tu fai una cosa che ti dà una soddisfazione temporanea come la droga però poi stai peggio e allora ne cerchi un'altra per tappare di nuovo quel buco ma piano piano scavi sempre di più e trovi qualcosa che cioè c'è sempre un buco sempre più grosso che non riesci a coprire tanto più compri no e e all'opposto quante storie abbiamo trovato di persone anche se chi ha lavorato nel volontario volontariato scusate che vengono dall'Africa anche lì però dipende ci sono gli africani depressi ci sono gli africani contenti però quanto bello è quando trovano un lavoro per pulire i cessi in stazione per dire eh so contentissimi no dicono ma anche prima addirittura di trovarlo perché già loro essere avevano l'obiettivo di arrivare in Europa e già questo li ha resi contenti ok quindi la vera cosa è trovare quello che vogliamo fare e questo lo vedremo meglio anzi prima i valori della nostra vita poi l'attività che vogliamo fare e già solo trovarla è tanto anzi è tutto quello che dico anche spesso quando faccio gli incontri parliamo per un giorno di orientamento per i giovani quando arriva la parte del bilancio di competenze dico il bilancio di competenze non è importante non è fondamentale è l'unica cosa che conta è l'unica cosa che dovete fare davvero dovete scoprire cosa volete perché già solo questo vi basta di suo ok tutto il resto che viene in più e allora se io io vi dico io i miei due valori li ho identificati in aiutare le persone e creare cose nuove e questo più o meno lo faccio in varie maniere allora ad esempio la mia attività in Caritas dove devo attivare dei tirocini c'è una parte del lavoro che non è fatta per me che sono le scartoffie che sono seguire i file seguire sono tutte robe cioè seguire l'iter richiamare le aziende io non sono fatto per queste cose qua però lo faccio e lo faccio e sono contento di farlo perché è legato al mio valore nella vita perché sento che sto aiutando le persone e perché ho cominciato a fare lezioni perché unisco le due cose un po' per essere creativo nel senso che passo un messaggio che è abbastanza controcorrente spesso e d'altra parte sento di aiutare le persone e questo guardate che sono abbastanza squatrinato e non è che vivo cioè io vivo con la mia ragazza e portiamo a casa 2.200 euro al mese di media abbiamo la nostra casetta in affitto abbiamo le nostre cose speriamo di fare un figliolo presto e poi adesso si spera c'è dei progetti che magari ho guadagnato un po' di più in passato ma adesso io sto bene così ho dei progetti che magari mi porteranno a guadagnare di più in futuro perché per esempio a marzo devo andare a Londra per presentare una start up per fare fundraising voglio andare su 2 milioni di euro vedremo ma se avrò anche quei soldi lì non farò cose molto diverse da quello che faccio anzi probabilmente utilizzerò quei soldi sempre per raggiungere con varie modalità i due valori che per me sono importanti nella vita e quindi aiutare le persone a creare altre cose nuove ok dici che è per la crisi però no è vero sì nel senso il tempo modifica inevitabilmente sì sì infatti anche lì certo ma infatti anche lì una cosa che succede spesso è che la gente pensa che le persone pensano che la gente come diceva Charlie Brown le persone pensano che la gente sia sempre la stessa e invece noi tutti cambiamo solo che cambiamo molto lentamente quando parlo con le persone dicono ah no quello lì è fatto così oppure è nato così è fatto in quella maniera là e poi quando chiediamo ma noi siamo voi noi io siamo le stesse persone dieci anni fa no cambiamo è normale solo che è molto lento il processo non abbiamo la pazienza ad aspettarsi e infatti ha perfettamente ragione io quando avevo 16-17 anni lavoravo come giornalista volevo fare solo il giornalista volevo scrivere nella vita e quello è stata una cosa che ho fatto che continuo a fare che ho fatto col documentario di cui non mi ha pagato nessuno e non ho pagato nessuno perché ho trovato altre persone che lo volevano fare per passione e ho continuato a farlo però quella cosa lì è stata un pochino più soppiantata da altre cose è normale si cambia con calma si no ma non credere ovviamente dipende dalla persona dipende assolutamente dalla persona ma diciamo che ti è presi dipende per esempio si è chiaro che comporta molte responsabilità e tutto il resto però ci sono io ne ho conosciuti imprenditori piccoli medi grandi e anche indirettamente di enormi perché riconosce le notizie che si dedicano ad altro ok cioè fanno per esempio Bill Gates la più grande fondazione del mondo e tu dici vabbè c'è i soldi c'è i soldi che gli esce delle orecchie si anche c'è il documentario famoso di altre cose però si si vabbè ma poi c'è questo e quell'altro però insomma non è detto che uno per forza però si vai vai no anzi interrompetemi volevo semplicemente dire che in questo ragionamento in questa filosofia di vita manca assolutamente il punto di vista dell'imprenditore perché nel momento in cui ecco io vado a proporre il tirocinio per il soggetto svantaggiato al piccolo e anche medio imprenditore che non ha tutte queste aspirazioni mi sento chiudere la porta in faccia probabilmente perché in questi meccanismi non sono coinvolti anche proprio per un discorso di acquisizione di responsabilità sociale anche i nostri imprenditori e quindi forse è questo che anche è l'anello mancante ma sì cioè tu dici che fai difficoltà perché la faccio anch'io a trovare degli imprenditori che attivino dei tirocini cioè io attivo dei tirocini cerco di attivare la sensibilità di questi sì ma non credere che sia solo è il tipo di forse anche di non prendere letteralmente l'approccio cioè il metodo che si usa io ti dico onestamente anche nella mia esperienza io a Vicenza cerco di attivare dei tirocini per persone svantaggiate che non hanno nessun costo per l'azienda c'è proprio zero ok l'unica cosa che si prendono è che devono hanno una persona che porta lavoro in più e devi formarla ma un pelino capito perché anche lì ormai non si accetta neanche più quello che non ha mai fatto niente ma devi avere un minimo di esperienza e tutto ed è tragico tu dici io ho alzato il telefono ho fatto 400-500 telefonate e il 95% non ti seguono su questa cosa qua ma non è ma perché proprio c'è è il mezzo di comunicazione che è sbagliato io tutti i tirocini che sono riuscito ad attivare l'ho trovato tramite i contatti perché è l'unica cosa che funziona adesso e poi lo vedremo la rete di relazioni personali è importantissimo è assolutamente vitale è l'unica cosa che funziona per determinate situazioni ma è anche vero che io vedo esclusi da questi contesti nella maggior parte dei casi i nostri datori di lavoro questo è e quindi forse a monte laboratori da basso una formazione dedicata ai nostri datori di lavoro posso fare un po' perché altrimenti rifacciamo lo stesso script dell'altra volta perché il Giappone aveva già fatto questo ok scusatemi e io ho fatto lo stesso ragionamento e siamo arrivati a capire che per loro che fanno questo tipo di orientamento e quindi lavorano loro sarebbero i redatori che sono di collega con il Giappone e di caldo maggior lavorano insieme e collaborano quindi per forza dirà la stessa cosa perché hanno la stessa filosofia a loro non interessa quello che non va cioè noi sappiamo come funziona la realtà secondo la nostra esperienza è quella siccome sulla realtà abbiamo fatto filosofia a un certo punto la realtà non è quella che noi siamo abituati a vedere ma dobbiamo secondo almeno quello che ho capito come diceva Nicola Giappone dobbiamo sforzarci di lavorare su quella che è la nostra realtà più positiva e quindi lavorare sui contatti in questo caso perché sono quelli che funzionano è inutile continuare a concentrarsi dimmi se sbaglio su quello che non funziona e quindi sul fatto che i datori di lavoro non hanno la sensibilità eccetera eccetera perché quella realtà non ci serve finì quello che stiamo facendo ma potrebbe essere modificabile poi aspetta questa non significa che lo condivida tutto potrebbe essere modificabile certo sono d'accordo il mio punto di vista a monte è che potrei mettere in essere una serie di situazioni che potrebbero esattamente divulgare un certo modo di intendere l'intresa perfetto però su questo perché lo dico solo perché dipende dal punto di vista da cosa partiamo se partiamo da noi questo discorso può non aver senso perché dobbiamo canalizzare le nostre ricerche in un certo modo se partiamo dal punto di scusami io io mi sono trovata a parlare con Nicola Giaconi poi del nostro ruolo tra virgolette politico e su questo ci siamo trovati un po' di più cioè se ci concentriamo sull'individuo e quindi su tutto quello che lui ha detto che adesso direi anche tu e magari espori anche meglio è un conto e quindi facciamo insomma questo ragionamento del tipo sono i contatti lavoriamo sui contatti dal punto di vista ovviamente di chi poi ha rapporti sulle macro categorie è chiaro che bisogna per forza avere a che fare con una macro realtà che in quel caso però interessa ecco perché la dottoressa dice dovremmo probabilmente fare delle cose a livello un po' più diciamo da un punto di vista un po' più alto alto non nel senso diciamo di superiorità inferiorità ma proprio di programmazione quindi proprio il focus non è più sull'individuo quindi sullo zoom diciamo sul piccolo ma zoom sull'alto questo ragionamento a Nicola Giaconi che stava spiegando insomma il suo metodo quindi questo metodo qua diceva quello ne possiamo discutere ma in un'altra sede in un altro contesto loro spiegano come si lavora a livello individuale poi è chiaro che a livello macro politico macro bisogna fare quello che stava a fare la legge cioè dobbiamo lavorare ma finché ci sia una sensibilizzazione spero di aver fatto una simpia sul progetto allora secondo me avete ragione tutti e due entrambe cioè no no ma hai fatto benissimo intervenire allora è vero che la situazione con la singola persona non è la situazione generale perché chiaramente le cose non sono paragonabili cioè sono paragonabili ma non sono le stesse è vero che si può migliorare questa cosa e soprattutto è vero che se ci continuiamo a concentrare su quello che non funziona non ma su questo siete d'accordo nel senso che lei sta dicendo non funziona e quindi facciamo qualcosa di attivo per cambiarlo lei sta dicendo non funziona concentriamoci anche sulle cose che funzionano soprattutto sulle cose che funzionano e le due cose vanno insieme chiaramente cioè facciamo cavalchiamo le cose che funzionano e allo stesso tempo attiviamoci per cambiare quelle che non funzionano io faccio un passo ancora in più quello che vi dico anche per la mia esperienza che la stessa persona cioè non pensate che una persona che vi dà un riscontro stavo per dire feedback mi sono trattenuto un riscontro negativo lo faccia per com'è quella persona lì ma può essere di peso cioè può dipendere da un sacco di cose di contesto la stessa persona che ha il telefono ti butta giù il telefono maleducatamente se l'approcci magari con un contatto con una persona scopri che è una persona che fa volontariato che è straattenta a questi temi che sarebbe felice di avere la persona che gli stai proponendo come tirocinio in un altro momento ci sono mille tantissimo io qua riprendo molto il fatto che alla fine ho studiato comunicazione quindi in media come diceva Marshall McLuhan purtroppo citato nella sua citazione il media è il messaggio per dire come comunichiamo la cosa è alla fine preponderante addirittura sul contenuto quindi una telefonata un'email o cose del genere come anche vedremo dopo è centomila volte più facile da cestinare rispetto a una persona che vediamo di fronte a noi e soprattutto una persona che conosciamo ma non solo questo la telefonata e l'email ti porta già ad usare delle scorciatoie psicologiche come voi tutte sapete bene predefinite come sapete quasi tutti voi sicuramente le psicologhe il cervello è una macchina efficiente e quindi cerca di rispondere sempre alla stessa maniera agli stessi stimoli e per cui una persona sa che se lavora in un'azienda ed è in una segreteria e riceve 50 telefonate a settimana di richieste varie inserisce quel mood mentale lì e dice questo vuole vendermi enciclopedie ed è più o meno la stessa cosa di quello che vuole attivarmi un tirocinio con una variabile molto piccola ma generalmente mette una soglia molto chiusa ok è più o meno lo stesso discorso degli annunci se tu ti infili in quella modalità lì non solo ti condizioni te stesso e ti dici non funziona ma dall'altra parte ti confronti con delle persone che hanno un approccio una mentalità di quel tipo lì altra cosa che sta venendo fuori esatto e noi proponiamo un metodo che sta piacendo molto ma che veramente io mi sto rendendo conto che è la realtà cioè di come funzionano le cose e che più o meno in fondo sanno tutti cioè io sto facendo sti corsi per i ragazzi insieme a grandissime aziende e la cosa tra le tante cose incredibili che quando gli chiedi ecco prima cosa chiedi alle aziende ma secondo voi qual è la laurea più importante da avere e allora le dicono ingegneria economia e commercio ragionano aziendale quindi economia e commercio ingegneria tutti i tipi di ingegneria gestionale cose del genere proprio le cose hard poi un paio di volte mi sono detto bene che laurea avete voi filosofia lettere scienze della comunicazione ok e questo mettilo lì è uno poi gli chiedi cos'è più importante per voi d'attori di lavoro tutti e dico tutti dicono intanto che una persona sia come gli piace dire loro proattiva ok cioè che abbia voglia che gli piaccia che abbia voglia di crescere che dimostri entusiasmo e poi gli chiede dice ma per voi il voto di laurea è importante e ha detto sì è abbastanza importante però se tu invece di prendere 110 hai preso 100 ma hai fatto 2-3 anni di lavoro all'estero è più importante quello e poi gli dicono ma quanto sono importanti per noi gli hobby quanto dicono di voi cose del genere cioè se tu hai ti sei attivato per certi tipi di valori che per noi per la nostra azienda sono importanti per noi ti selezioniamo su quello e io gli dico ma Gesù Santissimo queste cose non ci sono nel curriculum e per questo l'altro messaggio io mi presento sempre ragazzi dico sempre cercare il lavoro più che vi piace di più è il più facile da trovare e per trovarlo dovete bruciare il vostro curriculum e questa è l'altra cosa che mi guardano così ma perché è vero cioè il curriculum è la liturgia è il simbolo estremo di questo imbuto dove ci siamo tutti dentro cioè è una cartolina di noi ma non siamo noi e paradossalmente non è neanche quello che interessa dall'altra parte ok è solo che hanno bisogno delle cose misurabili perché sono sommersi da richieste e vedono chi cerca lavoro come una minaccia invece che come un'opportunità e alla stessa maniera dall'altra parte quindi per fare autogritica chi cerca lavoro mette solo sembra che cioè non lo propone come uno scambio come è il lavoro il lavoro dovrebbe essere io ti do il mio tempo le mie competenze le mie abilità e tu in cambio mi dai una retribuzione la possibilità di crescere professionalmente invece se uno dice cerco un lavoro qualsiasi adotto basta che lavoro la cosa che gli dici al datore di lavoro è dammi uno stipendio non me ne fai cioè non ti sto sottolineando che vantaggio competitivo ti do capito e quindi questo porta alla cosa micidiale che si devono basare sul voto di laurea perché gli ricevono 10.000 curriculum 10.000 no esagero però diverse centinaia di curriculum e le sempre le stesse aziende ok ma anche qua mi sto anticipando poi lo vedremo detto questo farei presentare lei visto che è ritardataria e poi mi dite voi se volete fare una piccola pausa o cominciamo con i bacini occupazionali vediamo un po' di dati del? no beh ci arriveremo anche con quello abbiamo tempo siamo qua siamo qua ancora sì sì allora sì hai ragione hai ragione allora come ti chiami cosa fai cosa ti aspetti da questo corso e cosa ti piace fare bello allora a Rosangelo c'è un mestiere insegno e come intendare sono un'attività che si sono andata in economia per me un'attività un'attività insegna non da poco e sono qui perché secondo me sono funzioni strumentali mi piace insegnare nonostante tutte le lamente o le difficoltà tipiche nell'insegnante e questo mi aiuta anche un po' penso anche nell'approccio anche con i ragazzi perché molto spesso noi non chiediamo cosa ti piace fare e poi dovremmo chiedere un po' di più anche durante le nostre inizioni a farglielo scoprire soprattutto solo che ci vuole delle competenze che non siamo psicologi dell'acqua non siamo psicologi e nessuno ci ha insegnato è chiaro che ne parlavamo prima quanto ci sarebbe bisogno di fare dell'orientamento fatto bene ma è chiaro che questo non può essere delegato a voi insegnanti deve essere fatto da persone che lo sappiano fare cosa ti aspetti da questo corso di capire un po' meglio il mercato del lavoro e di un aspetto di instaurare anche delle relazioni che mi possano proprio essere utili per istituire il mio corso a scuola per qualche inizione e più che altro un aspetto di essere utile per la mia utenza di essere utile una casa di bambole in formato 1 a 12 di tutte queste cose tipiche dell'ordine per una suddista un po' è una passione che ho ma non è che mi tolgo per tantissimo tempo questo è un momento di loro e mi piace organizzare i viaggi per la mia famiglia mi preparo a bruscioli del generale quindi per questa ok tu segnati sc anche un po' di però sc sci 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 savona com o imola ok ci arriveranno ok ultima cosa prima di partire allora visto che abbiamo un sacco di tempo io qua vi faccio una proposta l'avrei dovuta fare prima però ditemi voi se siete d'accordo allora oggi licenziamo la parte per i vaccini occupazionali che vedremo subito prima di pranzo e facciamo già un po' di internet di social network di come si cerca il lavoro col web di conoscere un po' questi strumenti e secondo me dovremmo già farcela entro oggi e parte di forse della mattina di domani ma insomma confido che il tempo ci sia la giornata quindi in pratica condenso in una i due termini se volete la giornata di domani invece andiamo proprio sulla comunicazione che è comunque la parte attiva del lavoro io ho tanto da offrirvi su questo punto di vista potrei parlarvi di di linguaggio del corpo di della voce che è bellissimo per me che è bellissimo e sappiate non è facile nel senso che bisogna un po' lasciarsi andare però è divertentissimo se non ci cacciano via perché facciamo un po' di di gorgheggi qua in giro e poi comunicazione emotiva comunicazione efficace non riusciremo a farle tutti e quattro pensate un po' quale può discutete fra di voi quale può essere la cosa che vi interessa di più e poi domani l'affrontiamo perché poi sono tutte cose che comunque nei colloqui di lavoro ma anche nella vita in generale servono vi piace come idea più o meno ok e poi prima di andare via vi facciamo sapere cosa sono le lettere no no anzi anche quello vediamo se riusciamo a ritagliarci un po' di tempo verso la fine della giornata di oggi ok come siete siete un po' cotti volete 10 minutini di pausa sì dai